Allora, il Sindaco Seri ha espresso volontà di contrattare con la Regione Marche un protocollo d'intesa su alcuni punti programmatici sulla sanità. Voi cosa ne pensate? Allora, noi siamo riusciti a leggere finalmente la bozza di protocollo inviata dal Presidente Ceriscioli a Seri e secondo noi è irricevibile, neanche aggiustabile o emendabile in alcuni punti. Perché per l'ospedale di Fano prevede neanche i servizi di un ospedale di base, quindi che passi esca dall'azienda, passi all'Asur, sia sotto Urbino, quindi Urbino avrebbe l'ospedale di primo livello, Fano neanche i servizi di un ospedale di base e Pesaro un'azienda di secondo livello. Quindi secondo noi è una situazione che non va per niente bene. Poi non ci sarebbero servizi che sarebbero invece nella clinica privata, così come avevamo ventilato da tempo quest'ipotesi, quindi non ad integrazione ma in sostituzione dei servizi pubblici. Purtroppo sembra proprio questa la volontà del Presidente Ceriscioli. Tra l'altro abbiamo scoperto che i soldi per costruire la strada che dovrebbe portare a Muraglia non ci sono. L'altro dato che secondo noi non va bene è quello che riguarda i posti per le DRSA, perché per avere questi posti convenzionati è vero che la Regione ce ne considerà, non sappiamo bene quanto perché è molto aleatoria nella lettera, però dovremmo svendere a Don Tonucci che adesso è gestione comunale. Quindi secondo noi è proprio il progetto politico che è sbagliato perché è l'accessione al privato di servizi sociosanitari che fino adesso sono stati pubblici.